Allora, anche qui vediamo il risultato, premetto che la signora un mese fa che mi ha conosciuto tramite internet ha visto il beneficio dei suoi capelli, ha visto il risultato e ritornata abbiamo fatto un lavoro basico, abbiamo preso solo la radice sfumando leggermente ma io oggi ho provato le mie forbice magiche, lo dico magiche perché arrivano dall'America e sono spettacolari perché fanno un taglio molto personalizzato soprattutto quando hanno i capelli ricci e mossi mi aiutano a non far sì che la punta diventa crespa, come lo vedi il capello ordinato, morbido, vivo, ce lo tocchi pure mi piace anche il colore, mi piace anche il colore, guarda che sfumatura che sembra naturale perché a me piace fare i colori personalizzati, il cliente sembra che è venuto in salone ma non è venuto in salone tutto bello sfumato, se lo vuoi bene, poi con queste forbice che sono ancora magiche, lo ripeto, aiutano a mantenere il capello riccio e morbido sono contento e che gli piacciono ciao beccionati ciao l ciao